Il Comune di Roma ha comprato 100 biciclette dalla pedalata assistita e tecnologiche per migliorare la mobilità nella città. C'è confusione però su quanto costano e quanti di questi mezzi sono realmente disponibili nel servizio di Matteo Parlato. C'è un piccolo giallo sulle nuove biciclette del Comune di Roma. Tutto nasce da un blog di un ciclo attivista, tale Rotafix, rilanciato da Paese Sera, che titola 650.000 euro per 90 biciclette. Detta così sono 7.300 euro a bicicletta. Da qui passiamo al blog del sindaco Alemanno, che annuncia la partenza di un servizio di noleggio di 90 biciclette, 60 a Villa Borghese e 30 a Villa Ada. Tutto a carico del Ministero dell'Ambiente. Il Ministero conferma e aggiunge che il Campidoglio ha investito i 650.000 euro per comprare 100 biciclette, dal valore di circa 3.500 euro l'una. Più quanto serve alla gestione del servizio attivo 6 giorni su 7. Il Ministero aggiunge che ha attivato con il Campidoglio dal 2008 progetti per la mobilità sostenibile per 17 milioni di euro. Le 10 biciclette in più, spiega il Campidoglio, sono una scorta. Queste bici sono state progettate dal MIT di Boston e realizzate dalla Ducati Energia e nel loro settore sono all'avanguardia, ma sono i numeri che appaiono incerti. L'ufficio stampa del Campidoglio dice di non saper rispondere sul prezzo delle biciclette, mentre su un blog del Fatto Quotidiano un ingegnere della Ducati parla di 2.500 euro, mille in meno di quanto il Campidoglio ha comunicato al Ministero. Alemanno parla di 90 bici disponibili. I mezzi sono alloggiati su 3 rastrelliere da 27 posti l'una e 27 per 3 fa 81. All'appello ne mancano 9 per un controvalore fra i 22.500 e i 31.500 euro.